Ciao ragazze, bentornate sul canale, bentornate in un nuovo video. Oggi finalmente, dopo qualche mese, giro di nuovo il video in collaborazione con Sara del canale Sara Cosmesi, ovvero il nostro video a tutto bio in cui vi mostriamo le scoperte e i preferiti rigorosamente biologici dell'ultimo periodo. Io la saluto tantissimo, la ringrazio sempre per questa collaborazione, lei è dolcissima, ci sentiamo comunque a volte anche in privato, oltre che essere molto competente, sicuramente la conoscerete già, sicuro. Se così non fosse vi lascio comunque i riferimenti al suo canale qua nell'info box perché davvero io non vedo l'ora di guardare il suo video perché mostra sempre dei prodotti molto interessanti, vi dico anche la verità, ne mostra anche molti di più dei miei. Infatti io sono riuscita a racimolare solo tipo sono sette prodotti, tre per il viso, di alcune cose che sto ancora usando, vi ho già parlato e alcune le ho appena aperte quindi mi devo ancora fare un'idea, però comunque adesso arriveranno pian piano anche i video della skin care, ho diversi video in programma e adesso che è finita la sessione mi sono un attimino rimessa sotto a registrare. E scusatemi anche se mi vedete struccata ma siccome oggi non ho programmi, cioè forse uscirò a fare la spesa ma non mi volevo truccare apposta per il video, anche perché ultimamente ho la pelle un po' sensibile, un po' capricciosa quindi meno trucco gli metto eccetera, meglio è. Iniziamo subito, allora prodotti per i capelli, ve l'avevo già anticipato in un video haul, vi devo assolutamente promuovere questo shampoo di Organic Shop all'avocado e miele, questo è uno shampoo repairing, quindi riparatore e promette morbidezza e vitalità ai capelli, certificato Cosmos Natural, comunque questa questo è un brand Organic Shop molto economico e totalmente biologico. Sono arrivata, come vedete ne ho usato parecchio, ne ho usato metà, buonissimo, sono 280 ml, costa poco, costa tipo sui 3 euro, penso. Io l'ho trovato nel solito reparto green del centro commerciale di Rimini, però lo potete anche trovare penso su Biompore Natura, su Ecco Verde, insomma anche online sicuramente reperibile, magari vi metto il link qua sotto nell'info box. Questo qua tra l'altro è stato anche il vincitore del Natural Health International Beauty Awards nel 2018. Quindi un prodotto premiato, ragazze, è buonissimo, è buonissimo. Allora, io ho dei capelli normali, come sapete, una cute normale e senza particolari problemi e esigenze, quindi è difficile che uno shampoo non mi piaccia, ma questo è veramente particolarmente buono. Mi dispiace se sentite in sottofondo tipo un clacson perenne, ma ogni tanto capita che qua sotto c'è un, cioè non proprio qua sotto in realtà è lontananza, però c'è un passo carrabile e la gente si ostina a mettergli la macchina davanti. Il proprietario di casa, invece che chiamare da bravo cittadino e far portarvi alla macchina, lui si mette lì e suona così, sperando che il malcapitato che ha parcheggiato la macchina esca. Parentesi chiuse, però scusatemi, spero smetta. Torniamo allo shampoo. Quindi vi dicevo è difficile che uno shampoo non mi piaccia, ma questo mi piace proprio particolarmente. Ho lavato ieri sera i capelli. Tra l'altro praticamente in ogni video che vi sto caricando c'è sempre qualcuna di voi che mi dice, vale ma ti si sono allungati ancora i capelli? Sì ragazze, a me i capelli crescono mediamente 3 cm al mese, quindi potete ben capire che se giro tipo un paio di video al mese ci sta che me li vediate lunghi sempre di più diciamo. Comunque, a parte questo, mi piace moltissimo come mi ha lasciato i capelli e è un prodotto veramente molto buono perché lava molto bene, mi fa durare il capello pulito a lungo. Io lavo i capelli due volte a settimana, ma comunque mi fa arrivare al giorno del lavaggio con i capelli decenti e inoltre non me li stressa assolutamente, li lascia morbidi, fa una schiuma veramente molto piacevole, bella morbida, veramente qua dice softness, confermo, lascia i capelli morbidissimi, non li annoda, anzi mi aiuta proprio anche di strecare i nodi, veramente uno shampoo molto molto buono, scusate che vi sistemo, aiuto, ok, è veramente uno shampoo molto molto buono che vi straconsiglio e soprattutto se avete dei capelli anche secchi perché è molto delicato. Bene, primo prodotto andato, secondo prodotto, allora questo non è proprio biologico certificato però ha un ottimo inci quindi lo inserisco nel video, questo balsamo dell'ultra dolce di Garnier, avreste mai pensato che vi facessi vedere un prodotto di Garnier? Eppure, eppure ragazzi devo dire che mi piace molto, è praticamente il balsamo idratante a latte di mandorla e linfa d'agave bio per capelli disidratati, questo ha il 98% di ingredienti di origine naturale, 250 ml ha un ottimo inci. Allora ragazze, prodotto veramente molto buono, io l'ho preso per tipo 2 euro al supermercato in fretta e furia, avevo finito il balsamo, non avevo tempo di girare e volevo prendere una delle mie solite maschere della Omia ma non era ne un'offerta, ho agguantato lui, buonissimo, cioè me ne sono innamorata, allora intanto il profumo di mandorla vabbè, ah vabbè, il profumo di mandorla di Garnier è fantastico, inoltre io sempre alla mandorla e alla linfa d'agave avevo provato la maschera latte se vi ricordate, io vi posso dire che questo qua lo trovo molto più performante perché districa molto meglio rispetto alla maschera latte, inoltre non ha quella consistenza della maschera che era praticamente liquida ma è un pochettino più denso, più che un balsamo sembra quasi una maschera, non so se riesco a farvi vedere la densità in realtà, vediamo così, non lo so se l'ho riuscita a percepire, cioè non è pesante ragazze, questo no, però è un po' più corposo rispetto alla maschera latte, districa benissimo, idrata molto bene i capelli, lascia i capelli profumati e è veramente un prodotto ottimo e il fatto che sia praticamente totalmente naturale me lo fa piacere ad apprezzare ancora di più, per cui non escludo di ricomprarlo, è stato un prodotto preso proprio così a caso e invece mi è piaciuto molto. Passiamo adesso al corpo, due prodotti per l'idratazione, allora una sicuramente di queste creme ve ne ho già parlato nel corso degli anni, però ve ne riparlo, è la crema corpo della Omia Laboratoire, questa qui, la potete trovare un pochino ovunque, da ticotà eccetera, per pochi euro, questa in particolare è quella all'olio di jojoba, sono 200 ml ed è indicata per pelli secche e ruvide, restitutiva e nutriente, oltre all'olio di jojoba, ha anche ad esempio il burro di karité, leggo qui e altri estratti, è vegan 6 mesi di Pao, mi piacciono tantissimo queste creme ragazze, sono proprio secondo me tra le creme migliori che possiamo trovare così nella grande distribuzione Eco Bio a un prezzo molto contenuto, ha un profumo molto delicato, per niente invadente, io ho provato tutte le profumazioni, vi posso dire che questa all'olio di jojoba mi piace tanto, a livello di nutrimento noto poche differenze onestamente tra le varie versioni, questa ha una consistenza molto fresca, vi faccio vedere, si assorbe molto velocemente, come potete vedere va a rottura molto velocemente, ecco si è già completamente assorbita, ma la cosa bella è che anche se è molto rapida, tra l'altro questo profumo tipo di prodotti per bambini e anche nonostante abbia questo assorbimento molto rapido, questa formula molto leggera, idrata veramente bene, ora qui dice pelli secche e ruvide, non lo so una pelle veramente ruvida, veramente che ha bisogno di nutrimento, forse è più adatto il prodotto che vi mostrerò tra un minuto, questo se avete una pelle sul corpo come la mia, normale, non particolarmente tendente alle screpolature, però comunque un pochino secca in inverno, è veramente ottima, poi veramente io odio le creme che dovete massaggiare per troppo tempo, cioè mi annoio e mi fa proprio, mi fanno odiare il passaggio della crema, quindi mi annoio a mettere la crema, questo assolutamente no, proprio perché è molto veloce, molto rapida, adattissima anche ad esempio la mattina se dovete uscire dopo vi dovete vestire subito insomma, quindi straconsigliata, invece se avete una pelle più esigente, magari più secca, vi consiglio di orientarvi su un burro e vi promuovo questo burro della Alverde, che quindi trovate al DM, Get Cozy Corporate Butter all'arancia, questo qua era in limited edition, l'avevo preso in un cofanetto, è certificato Natru, sono 100 ml, sono a più di metà, ha un buonissimo profumo di arancia, ma ve lo mostro perché ragazze in realtà a livello di formula e di efficacia io lo trovo molto simile al burricorpio normale di Alverde, quindi anche se questo era in limited edition e non lo so se lo potrete ancora trovare, forse c'è qualche rimanenza, però ecco in generale lo prendo come esempio per promuovervi i burri per il corpo di Alverde, questo ha l'olio di semi di girasole, la glicerina, il burro di caretè, l'olio di macadamia, il tocoferolo, l'estratto di arancio dolce e questo è proprio più corposo, però Alt non è un burro unto, è una crema molto più corposa, però che comunque vedete, cioè si è già assorbita, ecco non vi lascia la patina unta come ad esempio quelli di Nakomi che sono molto validi, però sono dei burri proprio oleosi, proprio cerosi, questa no, è semplicemente una crema molto più densa, però ad esempio mentre qua dove ho messo quella di prima ho la pelle completamente asciutta, qui sento che ho messo qualcosa, quindi ve lo consiglio di più la sera, però è veramente molto molto buono, in generale i burri corpo di Alverde se avete il DM vicino, adesso sta aprendo un po' dappertutto, anzi vi ringrazio ragazze che mi avete segnalato in massa l'apertura del DM a Rimini, tra l'altro apre una zona che mi è anche un po' più comoda rispetto a quello di Bologna perché io non sono proprio di Rimini, abito nelle campagne riminesi in molta periferia, cioè io sto a quasi mezz'ora da Rimini di macchina, però è molto vicino a dove abita il mio ragazzo, quindi diciamo che mi viene più comodo rispetto a questo Bologna, comunque ottimo, passiamo ora finalmente al viso, detersione, detersione vi promuovo questa crema detergente, qua c'è la confezione così vi riesco a dire anche qualcosina a livello di inci, si chiama Be My Honey crema detergente addolcente nutriente di Natura House, vediamo se vi riesco a far vedere il marchio, non so se conoscete Natura House, no non c'è scritto, cioè praticamente qua c'è scritto Natura House, la linea è Be My Honey, che pronuncia, comunque, questa qua io l'ho trovata in un'erboristeria perché è appunto riminese, l'ho trovata dalla sorgente a Riccione e l'ho presa perché è in offerta tipo al 50%, insomma l'ho pagata tipo 8 euro e questa linea di Natura House non è super economica, quindi l'ho presa volentieri, è al 98% di ingredienti naturali, quindi ha un ottimo inci senza schifezze all'interno, contiene miele, olio d'oliva e vitamina E, quindi ragazze una crema assolutamente nutriente, protettiva, molto adatta per la detersione di una pelle comunque secca, sensibile, la sconsiglio a chi ha una pelle mista o misto grassa perché la trovereste troppo, veramente è proprio tipo miele ed è proprio molto molto densa, io personalmente l'amo per detergere il viso al mattino quando mi sento la pelle un pochino più strassata, un pochino più secca perché è veramente una coccola, oltre agli ingredienti che vi ho detto, contiene l'olio d'oliva, ve l'ho detto, sì l'olio d'oliva ve l'ho detto, però ad esempio il miele, la propoli, la cera d'api, la gomma da, non so parlare, la gomma da caccia, quindi comunque tutti i derivati del miele, in generale questa linea è intuibile, sfrutta un po' tutte le proprietà del miele e affini, veramente molto buona, cioè una volta che la rimuovete sentite proprio la pelle morbidissima, quasi come se aveste già fatto uno step di idratazione, quindi la trovo adattissima nel periodo invernale per una pelle esigente, secca e matura, se vi capita provatela, tra l'altro sono 150 ml, ne serve pochissima proprio perché è molto densa, a me piace tanto, vi faccio vedere, il dispositivo è wireless, vi faccio vedere un po' la consistenza, cioè non so se può rendere l'idea, ha questo profumino di miele molto delicato, ma è proprio abbastanza grassa come crema, adesso io come mi pulisco che non ho i pazzoletti, un minuto, eccomi qua tornata e quindi niente, non posso fare altro che consigliarvela a occhi chiusi, l'unica cosa che magari non è così facile da reperire, però anche qua magari vedo di lasciarvi il link, e poi prodotto che ho provato grazie a un pottino che mi ha fatto la Cati, ti ringrazio ancora, e ho subito acquistato, è il siero, ce la faccio, siero attivo viso super idratante detox con acqua attiva di melagrana e acido dialuronico dell'erboristica di Atenas, anche qua abbiamo un inci naturale e molto attento agli ingredienti, un prodotto ragazze che a me sta piacendo tantissimo, sono 30 ml, costa circa sui 10 euro, lo trovate da Tigota, io lo sto utilizzando come siero praticamente da giorno, lo faccio vedere, è così, airless, molto semplice, molto compatto, è tra l'altro vegano, testato, cioè vegano, adatto ai vegani, testato ai metalli pesanti, dermatologicamente testato, questo qua io lo uso al mattino perché appunto intanto è molto idratante avendo l'acido dialuronico, quindi prepara molto bene la pelle poi ai trattamenti successivi, e poi comunque ha quest'azione detox che mi aiuta anche un po' contro l'inquinamento, vi voglio leggere qualcosina, dice che ha delle eccellenti proprietà detossinanti e antipollution appunto come vi ho detto, a base di acido dialuronico, gel di aloe vera, ma a me non mi fa assolutamente tirare la pelle, non me l'appiccica come fa spesso l'aloe, e acqua attiva di melagrana, che appunto assicurano una protezione dagli agenti esterni, ecco perché lo uso la mattina, ottima base per il trucco, si può applicare anche da solo, per me onestamente sarebbe troppo poco, vi faccio vedere la consistenza, è proprio un gel leggerissimo, ha la consistenza, non so se vedete, ha la consistenza proprio dell'acido dialuronico puro, io ho usato anche l'acido dialuronico della saponaria, sono proprio indistinguibili, è in odore, fantastico ragazzi, ne serve poco perché se abbondate poi vi dà quella sensazione di appiccicoso, idrata benissimo la pelle in profondità, la lascia levigata, morbida, ottimo, veramente ottimo, e sono molto contenta di utilizzarlo, però vi posso dire che secondo me questo qui dà il meglio di sé in estate, perché proprio ha una consistenza fresca e goduriosa proprio per l'estate, comunque io tipo l'ho applicato qui e si sente la differenza di setosità tra questa mano e questa, è veramente ottimo, poi facilmente reperibile, per chi non dovesse avere Tigotà, ogni tanto qualcuna mi scrive, spedisce ragazzi Tigotà, quindi è veramente un prodotto ottimo, tra l'altro azienda bolognese, quindi ci piace tantissimo, arboristica, difficilmente ci delude, chiudo con l'ultimo prodotto, anche qui siamo nei colli bolognese perché è un'azienda di Ostano delle Miglia, vediamo se vi riesco, ve la faccio vedere dopo la confezione, sto parlando di Fitorelax, ho utilizzato, in realtà la sto utilizzando da un bel po', questa maschera scrub 2 in 1 della linea Lux Lift Argan, è una linea vegan ok e certificata ICEA e questa è indicata per pelli stanche e spente, è una maschera scrub 2 in 1 illuminante levigante con argilla nera, buonissima ragazze, cioè sono 75 ml, costa anche qui meno di 10 euro, è una pasta nera, voi l'applicate, io l'applico, lascio agire tipo un quarto d'ora, 20 minuti, poi mi bagno le mani, massaggio e con i granelli vado a fare uno scrub e gli attivi funzionali sono appunto l'olio di Argan, la mandorla, l'olivo, il lino e l'argilla nera, tra l'altro, vi volevo dire una cosa, volevo cercare di capire, ecco l'effetto scrub è dato proprio dalla presenza dell'argilla, cioè quindi i granelli comunque si sentono ma non sono invadenti, quindi non vi preoccupate se ad esempio avete una pelle sensibile non graffia, però fa veramente un'ottima esfoliazione e dà veramente una botta di luminosità alla pelle, quando mi vedo davvero la pelle stressata, stanca, che non è al top della forma, faccio lei e appunto ovviamente prima non fate lo scrub perché è già esfoliante e tra l'altro il profumo di origine naturale non contiene sostanze sintetiche, non contiene OGM, il cartone è riciclato e insomma è tutto riciclato, quindi anche un'attenzione in più all'ambiente. Ragazzi che dire, mi piace, mi piace tantissimo veramente, come di questa linea, c'è sempre di Biofito Relax, mi era piaciuto moltissimo anche la maschera Detox al carbone, sono prodotti secondo me veramente molto buoni, ho sentito parlare molto bene anche dei sieri e molto molto buoni, sì. Io questa qua la trovo, in varie parti la trovo questa linea da OVS, da Queen, da Douglas, da Pinalli, insomma la trovate un pochino in giro, altrimenti appunto c'è sempre internet e io ve la straconsiglio perché è veramente molto molto buona. Bene ragazze, il video termina qui, mi raccomando ricordatevi adesso chiudete il mio video e andate a vedere quello di Sara per prendere spunto e io vi mando un bacio, come sempre ci sentiamo nei commenti e alla prossima, ciao!